Autostrade siciliane sempre più pericolose, dipendenti costretti a lavorare in precarie condizioni, mancanze di sicurezza e un organico sottodimensionato. I sindacati chiedono l'intervento delle istituzioni e presentano denunce sulla situazione attuale del CAS. Sentiamo cosa ne pensa Filippo Sutera, segretario regionale Cubbo. Spesso noi abbiamo fatto rilevare all'azienda che le spese che normalmente devono per convenzione, se essere spesi per la manutenzione e l'ammodernamento del manufatto, spese che enumeriamo in ordine al 35% minimo di quello che sono i proventi al CAS. Se consideriamo che i proventi di introiti dalle sezioni dei pedaggi o dalle aree di servizio ed altro, ammontano circa da 90 a 100 milioni annui, almeno il 35% dovrebbe fare 35 milioni da spendere all'anno per l'ammodernamento del manufatto, cosa che da decenni viene gravemente mortificato. E quindi è sotto gli occhi di tutti le condizioni dell'autostrada intanto. Gli incidenti che si sono succeduti nel tempo, altro non sono che gli effetti di queste mancate manutenzioni e di ammodernamenti. Stesso anche la questione della sicurezza non è mortificata soltanto per chi transita sul manufatto, sul nastro autostradale, ma anche per gli addetti ai lavori, cioè il personale che viene sottoposto a stress continuo, poiché è particolarmente sottodimensionato, costretto a fare delle ore di lavoro supplementari straordinarie. La Presidente è dimissionaria e non è stata sostituita con nessuno, quindi c'è un vacazio completo. Peraltro stesso anche le professionalità interne a questa concessionaria sono dal nostro punto di vista completamente estranei alle attività da esperire per la viabilità autostradale a pagamento. Questa concessionaria ha bisogno delle figure professionali di certificata esperienza. è l'unica autostrada che in Italia, invece di produrre profitti, produce soltanto debiti.